Un furto legittimo di Agostino di Ippona Ecco, il brano che dà il titolo al nostro video è un brano tratto dal De Doctrina Cristiana di Sant'Agostino quindi Aurelio Agostino di Ippona Tuttavia, questa lezione è una lezione introduttiva sulla mentalità medievale dopo aver visto un altro video del professor Barbero sul perché non possiamo non dirci medievali questa è la nostra seconda lezione di storia della letteratura italiana appunto nel triennio e quindi prima di parlare, prima di leggere il testo, il brano di Aurelio Agostino occorre riflettere su alcuni termini che ci servono per capire per sintetizzare un po' le caratteristiche principali della mentalità medievale la mentalità dell'epoca era permeata dalla religiosità cristiana e dal teocentrismo per teocentrismo, per teocentrismo in filosofia, in teologia si intende quella dottrina secondo la quale Dio è al centro dell'universo perciò tutto ciò che esiste ha significato e giustificazione soltanto riferendolo alla divinità concepita come un unico principio creatore di tutta quanta la realtà come scritto anche per esempio sul sito edcalingo.com insomma tutto discende da Dio tutto è da interpretare alla luce di Dio tutto, non solamente la religione ma anche il tempo, la società, l'economia l'arte, la letteratura, il divertimento ecco, a questo proposito c'è da dire che ci sono dei testi di riferimento sono le cosiddette auctoritates nel senso che i medievali facevano riferimento ad alcuni testi che erano per esempio le sacre scritture quindi l'antico e il nuovo testamento oppure i testi dei padri della chiesa ma non solo anche alcuni testi dei pensatori, dei più grandi pensatori greci o anche di alcuni latini erano punto di riferimento per i medievali pensiamo ad esempio in particolar modo ad Aristotele questa concezione proprio di un motore immobile quindi di un'entità al centro dell'universo per cui tutto esiste ed è principio creatore di tutta quanta la realtà è un po' mutuata da Aristotele ma anche Platone vedremo per certi versi quindi l'uomo non deve affannarsi a cercare la verità la verità già c'è, è stata rivelata appunto attraverso dicevamo la Bibbia ed è stata rivelata ad alcuni geni, alcuni pensatori per cui si tratta semplicemente di adeguarsi a questa verità come vedremo anche poi in seguito quando parleremo dell'enciclopedismo è chiaro quindi che questo teocentrismo abbiamo detto che va applicato a tutti i campi della realtà e quindi è già tutto ordinato è giusto così come si trova, come è la realtà non c'è da cambiarla, non c'è da modificarla c'è da adeguarsi e questo ovviamente dà anche una certa staticità alla società per esempio i medievali, lo vedremo anche la prossima volta dividevano la società in tre ordini che erano gli oratores, i bellatores e i laboratores gli oratores erano i chierici clericus, clerici detto alla latina quindi erano quelli che si preparavano che facevano una carriera ecclesiastica e quindi ad entrare nel clero erano gli unici che studiavano erano gli unici per cui era importante studiare, leggere appunto comunque tutti i testi di cui abbiamo parlato prima poi c'erano i bellatores i bellatores sono i guerrieri così questo è il significato originario di questa parola latina tuttavia i guerrieri rivolgevano anche una funzione sociale importantissima perché i guerrieri sono i compagni del re o dell'imperatore quindi detto alla latina sono i comites e quindi l'imperatore li nomina appunto suoi comites, suoi compagni e affida loro per esempio dei compiti come anche a un certo punto governare un territorio e quindi ai conti sono affidati i feudi oppure ai duchi detto alla longobarda latino longobarda oppure ai marchesi nelle marche cioè sono quei territori di confine che l'imperatore assegna appunto ad alcuni suoi diciamo uomini di fiducia particolarmente importanti perché sono quelli più difficili da difendere e quindi i marchesi in generale hanno un ruolo ancora più importante di conti e duchi oppure anche l'economia estatica infatti è un'economia soprattutto fino al mille essenzialmente di sussistenza economia curtense economia della curtis e quindi chiusa e quindi prima ci siamo dimenticati di parlare dei laboratores cioè appunto quelli che lavorano e quindi per esempio i contadini non possono sperare di cambiare la loro condizione la loro classe sociale ciò che facevano i loro padri fanno anche loro i figli perché questo è il bene di tutta quanta la società dal punto di vista politico c'è teocentrismo anche lì nel senso che tutto fa riferimento a Dio anche il potere ultimamente rimanda a Dio e quindi Dio elegge sceglie degli uomini per dare loro la guida temporale quindi politica della terra e sono gli imperatori ecco l'imperatore quindi si sente eletto da Dio e quindi il suo potere è legittimato in questo modo tuttavia a partire da Carlo Magno da quella famosa notte di Natale dell'ottocento dopo Cristo c'è il piccolo problema che l'imperatore viene investito dal Papa cioè il Papa che che lo incorona diciamo e quindi a questo punto si crea una dialettica fra il potere dell'imperatore e il potere del Papa ovviamente l'imperatore dice se sono stato scelto da Dio io ho un potere che deve essere superiore a quello di tutti soprattutto nel campo politico temporale invece il Papa dice se sono io ad eleggere quindi a incoronare l'imperatore a investire l'imperatore diciamo così allora devo essere devo avere io un potere superiore e così nasce la lotta tra il papato e l'impero che caratterizza tutto quanto il Medioevo questa è un'investitura una grande investitura poi ci sono le investiture dei vescovi anche qua lottano tantissimo l'imperatore e il Papa fra di loro perché l'imperatore vorrebbe lui nominare e investire i vescovi del suo territorio mentre il Papa a un certo punto ottiene di poterlo fare lui perché si tratta di un potere religioso ecco perché i vescovi svolgono una funzione religiosa mentre all'inizio e poi comunque anche per un certo verso anche nei secoli successivi i vescovi ottenevano un certo territorio dall'imperatore che preferiva anche scegliere i vescovi rispetto ai conti perché i vescovi non avevano eredità qui c'è tutto un discorso importante sull'ereditarietà dei feudi sulla quale un discorso sul quale non mi soffermo e quindi insomma continuano ad avere e continueranno ad avere anche un potere temporale oltre al potere spirituale i vescovi fino quasi all'età contemporanea si può dire ma ritorniamo alla questione della mentalità medievale parliamo per esempio del simbolismo nel pensiero medievale ogni oggetto materiale è considerato la figurazione o prefigurazione di qualcosa che li corrisponde su un piano più elevato diventa quindi il suo simbolo il simbolismo è universale il pensare è una continua scoperta di significati nascosti una costante ierofania cioè manifestazione del sacro cioè facendo riferimento a Platone per il quale il mondo visibile non è altro se non la copia di un mondo invisibile soprannaturale delle idee che è ancora più reale di quello visibile prendendo da Platone dicevamo e anche da San Paolo che nella prima lettera ai Corinzi dice ora nella vita terrena vediamo oscuramente come attraverso uno specchio allora invece cioè dopo la morte vedremo direttamente insomma per i medievali la realtà che ci circonda va interpretata anzi si può dire che la realtà vera è quella che noi non vediamo il mondo nascosto questa realtà vera è un mondo sacro il pensiero simbolico non è altro che la forma elaborata decantata a livello dei dotti del pensiero magico nel quale si immergeva la mentalità comune e quindi diciamo che io vedo un oggetto ma devo essere capace di guardare dietro questo oggetto qual è la realtà perché questo oggetto è un segno è un segno infatti ci sono cioè le cose che vediamo che tocchiamo sono dei signa sono dei segni sono dei simboli mentre la realtà la res vera è dietro appunto questi simboli noi quindi vediamo delle cose ma non sono altro se non dei simboli si tratta di trovare le chiavi che forzano il mondo nascosto che ci permettono quindi di conoscere la vera realtà e quindi il mondo vero eterno quello dove ci si può salvare gli atti di devozione sono atti simbolici con i quali si cerca di farsi riconoscere da dio e obbligarlo a mantenere il contratto fatto con lui le formule di donazione con le quali i donatori facevano allusione al loro desiderio di salvarsi indicavano questo mercato magico che faceva di dio l'obbligato del donatore costringendolo a salvarlo ecco ad esempio quindi stiamo parlando di reliquie piuttosto che di donazioni indulgenze eccetera ecco nello stesso modo il pensiero sta nel trovare le chiavi che permettono di aprire le porte del mondo delle idee perché al medievale interessa questo dicevamo interessa salvarsi cioè interessa a quella realtà non quella che noi vediamo ma quella che sta dietro quello che noi vediamo a questo proposito dobbiamo spiegare che la natura è vista come un grande serbatoio di simboli ecco noi possiamo vedere la natura indagarla per scoprire i segni nascosti del divino è una sorta di libro della natura anche questo lo dirà persino Galilei che può essere letto in modi diversi è chiaro che essendo un simbolo ci possono essere anche delle interpretazioni diverse comunque sta di fatto che la natura è l'alfabeto attraverso il quale Dio parla agli uomini e quindi come diceva Umberto Eco la speranza può ritornare nel mondo perché il mondo è il discorso che Dio rivolge agli uomini si tratta solamente di saperlo leggere per esempio gli elementi dei diversi ordini naturali sono gli alberi di questa foresta di simboli attenzione abbiamo già parlato di Galilei qui ci viene in mente addirittura Baudelaire quando parliamo di foresta di simboli ma non confondiamo il simbolismo medievale con il simbolismo moderno ecco infatti nel simbolismo medievale c'erano elementi non solamente reali che venivano interpretati ma anche elementi fantastici magici soprannaturali anche i sogni e le visioni tutto poteva essere un simbolo i minerali quindi che venivano poi codificati nei lapidari i vegetali che venivano codificati nei florari gli animali codificati nei bestiari insomma tutti tutto viene catalogato e spiegato in questa biblioteca ideale del medioevo che sono appunto questi libri i lapidari i bestiari eccetera e quindi abbiamo detto attenzione però non solo per esempio animali reali ma anche animali fantastici si trovano in questi bestiari ad esempio l'unicorno anche i numeri sono soggetti a interpretazione simbolica pensate ad esempio al numero 1 che è simbolo di Dio reduxio ad unum tutto quanto per i medievali si riduceva ad unità oppure 3 che è il numero della trinità nello stesso tempo Dio è 1 e trino e il 4 è un altro numero importantissimo perché è la somma dell'unità e della trinità in genere comunque il 3 è un numero riservato a Dio e quindi sono 3 ad esempio le virtù teologali come la fede la speranza e la carità e il 4 è la somma dell'unità della trinità ha anche però un valore di rappresentazione del mondo perché gli antichi per esempio gli antichi filosofi avevano individuato 4 elementi di cui è costituito il mondo la terra l'aria l'acqua e il fuoco oppure 4 sono i punti cardinali quindi nord est sud e ovest 4 sono quindi anche le virtù cardinali cioè le virtù tipiche dell'uomo oppure 4 sono le stagioni dell'anno 4 ritornando in campo religioso sono anche gli evangelisti altri numeri molto significativi sono il 7 e il 9 il 9 è la trinità moltiplicata per se stessa e questo lo sa molto bene Dante che per esempio nella vita nuova vede Beatrice per la prima volta a 9 anni e per la seconda a 18 anni cioè il 9 per Dante è proprio il numero della teofania della ierofania cioè della manifestazione di Dio della manifestazione del sacro appunto attraverso ad esempio gli incontri con Beatrice ma anche i colori bianco simbolo di purezza grigio simbolo di penitenza il rosso che ha tanti significati in realtà per esempio è simbolo dell'amore della passione della carità quindi senz'altro ma è anche simbolo del martirio e si contende con il blu il fatto di essere simbolo della regalità il blu è spesso per esempio nell'iconografia simbolo del divino pensate al manto di Maria un'altra cosa importante da capire da studiare per conoscere la mentalità medievale è l'allegoria questo termine deriva dal latino tardo allegoria appunto ma in realtà è un termine greco no? è che è composto di allos che vuol dire altro e agoreuo e deriva insomma da agoreuo che vuol dire parlare quindi quando c'è un'allegoria noi parliamo di altro diciamo una cosa ma intendiamo altro un'allegoria è qualcosa che si presenta a noi con una certa autonomia ecco non è come il simbolo che è qualcosa di immediatamente dipendente d'altro l'allegoria può essere anche vista in un modo come dire immediato realistico ecco il problema è che per i medievali dietro questa allegoria ma comunque vedete che siamo legati al discorso del simbolismo che abbiamo fatto prima dietro questa allegoria c'è qualcosa d'altro c'è un messaggio diverso che si vuole dire per esempio facciamo l'allegoria della fortuna una donna bendata quindi se noi ci fermiamo alla visione diciamo apparente vediamo ad esempio una statua di una donna con una benda degli occhi e basta ecco è chiaro che occorre invece saper cogliere il senso dell'allegoria e quindi capire che quella è un'allegoria della fortuna che è cieca che non ci vede e che quindi rende fortunati anche magari quelli che non se lo merita ecco non solo quando vediamo un'opera d'arte ma anche quando leggiamo un testo di letteratura possiamo fermarci al senso letterale quindi per esempio nel caso del testo ci fermiamo a ciò che è scritto e basta oppure possiamo andare oltre e quindi almeno trovare l'allegoria cioè il significato nascosto sotto il velo della lettura pensiamo per esempio alle tre fiere che si trovano nel primo canto della divina commedia di Dante possiamo fermarci diciamo al senso letterale Dante che è impedito nel suo cammino da tre bestie una lonza cioè praticamente diciamo una specie di leopardo o ghepardo un leone e una lupa oppure possiamo cogliere il senso allegorico cosa c'è dietro la lonza ci sono i peccati di incontinenza come la gola la lussuria cosa c'è dietro il leone ci sono i peccati di violenza o la superbia e cosa c'è dietro la lupa ci sono i peccati di avidità o la frode l'inganno questa cosa può essere applicata anche alle sacre scritture come vedremo adesso proprio nel testo di Agostino in particolar modo l'antico testamento è prefigurazione del nuovo testamento quindi capisce bene l'antico testamento che riesce a coglierne il senso allegorico oppure possono essere interpretati allegoricamente i testi classici pensiamo per esempio ad una poesia di Virgilio la quarta ecloga cioè la quarta bucolica una delle poesie della sua prima opera le bucoliche ebbene in questa poesia Virgilio esalta la nascita di un bambino i medievali dicevano e pensavano che Virgilio era un profeta per i medievali in Virgilio era un mago un profeta tant'è vero che lo leggeremo nella Divina Commedia sarà la guida di Dante e la dimostrazione è anche questa poesia secondo i medievali infatti questa poesia scritta alcuni anni prima di Cristo è profezia della nascita di Cristo bambino Cristo appunto come si legge all'inizio del Vangelo e qui entriamo nel cuore della nostra lezione cioè in questo modo con un'interpretazione allegorica sarà possibile assimilare al cristianesimo anche la cultura classica ecco per esempio un'altra cosa importante da dire diversamente dalla metafora che consiste in una parola o in una frase trasferita dal concetto cui solitamente propriamente si applica ad un altro che ha una somiglianza col primo esempio la gamba del tavolo l'allegoria è il racconto di un'azione che deve essere interpretata diversamente dal suo significato apparente coinvolge porzioni lunghe di testo anche un testo intero può essere un'allegoria anche la commedia di Dante intera è un'allegoria mentre la metafora può essere una singola parola l'allegoria è più complessa è più dettagliata e dicevamo anche più articolata bene è il caso per esempio della famosa allegoria detta dal teologo Giovanni di Salisbury che è vissuto tra 1120 e 1180 lui aveva detto così noi siamo come nani sulle spalle dei giganti è un'allegoria che va interpretata e qual era l'interpretazione chiara evidente noi uomini del nostro tempo cioè noi uomini medievali siamo come nani sulle spalle dei giganti vuol dire dobbiamo riconoscere l'eredità che ci è venuta da chi ci ha preceduto quindi come abbiamo spiegato prima non solo appunto dai padri della chiesa dai primi cristiani ma anche chi ci ha preceduto nel senso dei classici insomma dobbiamo per esempio ricomoscere il valore dei testi classici l'ultima cosa di cui vorremmo parlare oggi è l'enciclopedismo di che cosa si tratta beh si tratta del vedere la realtà in un modo omnicomprensivo totale l'enciclopedismo medievale prevede una visione totale della realtà e poi prevede anche diciamo quello che abbiamo detto prima sul teocentrismo cioè il convergere di tutto il sapere nella teologia la scienza di Dio ecco comunque ecco quindi che per esempio il sapere per i medievali è un sistema ordinato comprensibile e unitario la cultura medievale quindi è enciclopedica è esattamente il contrario della cultura moderna che è specialistica non c'erano ma specializzazione nel medioevo c'era i clericus chiamiamolo così quello che è il nostro intellettuale che studiava le arti del trivio del quadrivio cioè grammatica retorica dialettica arti tra virgolette umanistiche ma studiava anche le arti del quadrivio cioè la aritmetica la geometria l'astronomia e la musica che sono discipline soprattutto le prime tre diciamo scientifiche ma anche la musica in un certo senso ha qualcosa di matematico ben sappiamo noi ecco quindi che l'intellettuale era un intellettuale a 360 gradi e sapeva e conosceva tutte queste materie ad esempio lo stesso Dante non è solamente un poeta ma anche un esperto di scienze e va a tenere una lezione di scienze questio di acqua e di terra all'università capite? cioè quindi che cosa vuol dire enciclopedismo qui ritorniamo anche al discorso che abbiamo fatto prima riguardo al ai bestiari ai lapidari agli erbari che non sono solamente dei testi che ne so di botanica piuttosto che di zoologia ma sono come delle enciclopedie minori insomma in cui sono descritte qualità fisiche ma anche simboliche degli animali delle pietre e delle piante ecco un esempio comunque tipico di opera enciclopedica è proprio la divina commedia di Dante Alighieri perché nella divina commedia non c'è solo la letteratura ma c'è anche la teologia c'è la filosofia c'è la storia c'è la geografia c'è la mitologia c'è l'astronomia e l'astrologia che per i medievali insomma un po' si confondevano fra di loro ci sono importanti altri testi enciclopedici nella cultura medievale sono punti di riferimento anche le instituciones di Cassiodoro Cassiodoro è un intellettuale che lavora alla corte di Teodorico diciamo dei goti è vissuto infatti Cassiodoro circa dal 490 dopo Cristo al 583 dopo Cristo un suo quasi contemporaneo è Isidoro di Siviglia che è nato nel 570 circa ed è morto nel 636 anche le etimologie Sive Origines di Isidoro di Siviglia sono un punto di riferimento cioè parlando descrivendo le parole la loro etimologia Isidoro di Siviglia compie una sorta di enciclopedia medievale ma questo carattere dell'enciclopedismo attraversa tutto quanto il Medioevo non solo l'alto Medioevo di Cassiodoro e di Isidoro di Siviglia ma anche il basso Medioevo fino ad arrivare al 200 dicevamo appunto all'epoca di Dante proprio uno dei maestri di Dante infatti è Brunetto Latini che scrive anche lui una sorta di enciclopedia la scrive in francese la intitola così Tresor che in francese significa appunto il tesoro perché è un eurudito insomma ci sono informazioni in svariati campi usa il francese ricordate che il francese è praticamente la prima grande lingua romanza neolatina che si impone nel Medioevo e quindi la storia della letteratura nasce in un certo senso in ambito francese come vedremo poi lo stesso Brunetto Latini scriverà una specie di compendio del Tresor una sintesi un riassunto in volgare italiano e lo chiamerà il tesoretto insomma come abbiamo spiegato anche prima riguardo al teocentrismo il sapere è stato dato all'uomo da Dio una volta per tutte cercare di andare oltre questa conoscenza volendo far perno sulle capacità umane è considerato un peccato di superbia in quanto tale è punito come l'Ulisse dantesco si dice in questo sito sito medioevo.org anche se questa cosa è leggermente opinabile perché noi per esempio riteniamo ma riparleremo quando leggeremo il ventiseesimo canto dell'inferno dantesco che Ulisse si è punito più per altro insomma per la frode perché è un consigliere fraudolento che non per il suo desiderio di conoscenza però è vero quello cioè effettivamente è vero che comunque l'uomo pensate ad Adamo non deve avere la presunzione di conoscere di sapere l'arbero della conoscenza del bene del male ricordate appunto l'inizio della della genesi ma deve appunto accogliere la realtà e come è senza perché ormai già ci sono le autorità autorità vi ricordate l'ipsedixit di Aristotele cioè chi ha già detto tutto insomma sulla realtà occorre poi insomma adeguarsi ecco il rapporto fra cultura cristiana e cultura classica il rapporto tra il cristianesimo e il paganesimo nei primi secoli è un rapporto molto conflittuale i pagani perseguitavano i cristiani e i cristiani dicevano non vogliamo avere niente a che fare niente a che vedere con la cultura classica con la cultura pagana poi però anche una volta dopo che sono finite e terminate le persecuzioni qualcuno in particolar modo Agostino grande pensatore che era stato pagano poi si è convertito eh aveva capito che il cristianesimo non poteva assolutamente fare a meno della filosofia della letteratura elaborata dagli autori e dai pensatori pagani tra l'altro lui addirittura dice nelle confessioni di essersi convertito a cristianesimo dopo la lettura dell'Oratius di Cicerone un'opera perduta di Cicerone era tutto innervato di cultura classica di cultura pagana amava andare alle terme Agostino giusto piccolo aneddoto e una volta che diventa cristiano che si converte capisce intuisce che sarebbe stupido fare a meno della ricchezza che è presente nella cultura pagana classica e quindi in questo testo De Doctrina Cristiana cioè praticamente un testo in cui parla del cristianesimo e del pensiero cristiano spiega che anzi giustificano il fatto che i cristiani utilizzino e interpretino anche a loro modo i testi classici dice infatti ovviamente il testo originale in latino noi lo leggiamo nella traduzione di Naldini casa di Trice città nuova riguardo ai cosiddetti filosofi massimamente ai platonici nell'ipotesi che abbiano detto cose vere e consone con la nostra fede non soltanto non le si deve temere ma le si deve loro sottrarre come da possessori abusivi e adibirle all'uso nostro ecco Agostino studierete quest'anno anche in filosofia valorizza molto il platonismo e dice Agostino per esempio i platonici dicevano che oltre al nostro mondo reale un po' l'abbiamo detto anche prima mondo volevo dire apparente c'è un altro mondo al di là anche del cielo lo chiamava iperuraneo che è il mondo delle anime ebbene Platone ha trovato una verità ha scoperto una verità importantissima solo che non l'ha capita fino in fondo e quindi noi noi cristiani dobbiamo appropriarci del suo pensiero interpretarlo perché quando lui parla di iperuraneo non lo sapeva lui ma sarebbe il paradiso e noi lo sappiamo perché abbiamo avuto la rivelazione di Dio e quindi noi è giusto che prendiamo queste verità che si trovano nei testi classici anche della filosofia insomma pre-cristiana e dobbiamo impossessarcene ci si deve comportare come gli ebrei con gli egiziani qui c'è un bel esempio proprio di allegoria vi ricordate prima abbiamo parlato dell'allegoria beh insomma c'è un brano nell'antico testamento in cui si narra della schiavitù degli ebrei in Egitto gli egiziani non solo veneravano gli dei cioè erano pagani cioè avevano cento dei addirittura anche dei non so se vi ricordate le divinità egiziane con la testa d'animale e imponevano a Israele oneri gravosi perché gli ebrei erano schiavi sotto di loro che il popolo il popolo ebraico detestava fino a fuggirne però oltre a questo diedero loro vasi a gioielli d'oro e d'argento e anche delle vesti come dire quindi i pagani non solo hanno perseguitato i cristiani ecco la interpretazione allegorica e quindi hanno imposto il paganesimo le tasse eccetera ma hanno dato anche delle ricchezze ai cristiani così come gli egiziani avevano dato o prestato delle ricchezze fasi gioielli d'oro e d'argento o vesti preziose agli ebrei il popolo ebraico all'uscita dall'Egitto di nascosto il cosiddetto esodo se li rivendicò come propri per farne diciamo così un uso migliore cioè quando gli ebrei fuggono dall'Egitto non restituiscono quanto è stato loro prestato ad esempio dagli egiziani ma se lo tengono rivendicandolo come proprio è il furto legittimo della Bibbia nell'Antico Testamento per Agostino anche i cristiani che si appropriano della filosofia pagana sono come gli ebrei che fanno un furto legittimo non fecero ciò di loro arbitrio gli ebrei comunque fecero questo cioè appropriarsi di questi beni non perché insomma erano un po' furbi ma per comando di Dio gli aveva detto Dio prendete le cose che vi hanno dato gli egiziani e portatele con voi e gli egiziani a loro insaputa glieli prestarono prestarono questi beni ma poi non li riebbero riebbero indietro ed effettivamente era una cosa delle quali essi non facevano buon uso cioè vuol dire che poi furono essenziali insomma per il popolo ebreo che gli sape usare questi beni anche meglio degli egiziani fuori dall'allegoria diciamo che ciò vuol dire che le verità che avevano intuito gli antichi Platone Aristotele sapete Agostino è un po' più Platonico che Aristotelico mentre San Tommaso vedremo è più Aristotelico comunque queste verità non erano state capite fino in fondo non ne avevano fatto buon uso i pagani lo stesso si deve dire di tutte le scienze dei pagani esse racchiudono invenzioni simulate superstiziose come pure gravi pesi che costringono a un lavoro superfluo per esempio per Agostino un peso era l'astronomia cioè alcune cose insomma di cui parlavano i pagani non interessavano Agostino cose tutte che ciascuno di noi uscendo dal mondo pagano a seguito di Cristo deve detestare ed evitare comunque insomma le superstizioni le invenzioni il paganesimo tante cose insomma contenute in questi testi dobbiamo considerarle assolutamente insopportabili e quindi inutili ecco contengono però insieme a questo anche arti liberali quindi contengono diciamo le verità che poi noi studiamo perché a scuola nel medioevo si studiano le arti liberali cioè le arti di una persona libera cioè noi diremmo le materie di studio insomma di una persona libera perché poi invece ci sono delle persone un po' più pratiche e materiali ecco quelli appunto come dire a quelli non sono destinate le arti delle persone libere sono le arti del trivio del quadrivio di cui abbiamo parlato prima il trivio grammatica retorica dialettica il quadrivio aritmetica geometria astronomia e musica ecco queste cose sono più consone col servizio della verità sono perfettamente in sintonia con la verità e alcuni utilissimi precetti morali pensate a Seneca quanti precetti di morale di Seneca sono in sintonia con quelli cristiani presso di loro si trovano anche alcune verità sul culto dell'unico Dio è possibile addirittura trovare concetti conformi al cristianesimo persino nel campo della teologia cioè qualcuno che ha intuito il monoteismo abbiamo fatto l'esempio prima del motore immobile di Aristotele oppure alcune preghiere a Giove supremo di alcuni poeti pagani o a Zeus tutto questo è come il loro oro e argento ritornando ricordate diciamo all'allegoria degli ebrei e degli egiziani l'argento e l'oro degli egiziani che essi non inventarono ma estrassero da certe chiamiamole così miniere della divina provvidenza che si espande dovunque comunque dice Agostino nessun uomo inventa le verità da solo perché li sono ispirate da Dio evidentemente Dio ha voluto ispirare alcuni di questi scrittori pagani è vero che essi nella loro perversione e iniquità ne abusano per rendere culto ai loro dei i pagani anche se conoscono la verità la usano male e quindi usano male anche le verità contenute nelle loro stesse opere perché le indirizzano a scopi che non sono quelli della verità piena perché non la conoscono questa verità piena non è stata rivelata a loro e quindi indirizzano tutti al loro paganesimo non per questo però il cristiano pur separandosi con lo spirito dalla loro miserabile società deve buttare via tali ritrovati qualora servano alla giusta missione di predicare il Vangelo sarà anche lecito prendere ed adibire ad uso cristiano anche la loro veste cioè le istituzioni opera di uomini che siano aderenti alla convivenza umana alla quale in questa vita non possiamo sottrarci ecco quindi però che non dobbiamo buttare il bambino con l'acqua sporca cioè non dobbiamo come dire eliminare tutto quello che hanno scritto i pagani perché ci sono delle verità l'abbiamo spiegato nei loro testi noi sappiamo bene dove indirizzare queste verità alla giusta missione al Vangelo alla rivelazione di Dio e come dire anche non solo l'oro e l'argento ma anche le vesti e quindi allegoricamente interpreta le vesti di cui parla l'antico testamento le vesti egiziane che gli egiziani danno agli ebrei come le istituzioni le istituzioni quindi per esempio anche la politica tutto quello che è aderente alla convivenza umana alla quale in questa vita non possiamo sottrarci perché è chiaro evidente che insomma i cristiani non possono non prendere le istituzioni pensate ad esempio al diritto non possiamo perdere l'arte lasciamola perdere ma è chiaro che l'arte la letteratura ecco ci presenta esempi modelli straordinari nell'età greca e nell'età romana ma pensate anche al diritto e pensate appunto vi dicevo anche alla quindi alla legge e all'impero al modello dell'impero al modello quindi dicevamo di gestione del potere sulla terra tutte queste cose cioè la società la civiltà trovano dei modelli importanti significativi nel mondo classico nel mondo pagano non possiamo dimenticarli questi dobbiamo semplicemente sfruttarli e utilizzarli per il giusto scopo